Buongiorno, buongiorno a tutti i ragazzi della terza volta, quindi provo a rifare il video perché nei primissimi secondi avevo già detto due volte una cavolata, quindi provo per la terza volta sperando possa essere quella buona. Buon giovedì a tutti, anti-vigilia di Arsenal-Juventus, quindi la Juventus sta tornando in campo, ieri abbiamo parlato un po' dei problemi legati a Pogba, conferme che ci vorrà almeno un mesetto, conferme che lo vedremo intorno a febbraio. Conferme che fino a questo punto l'acquisto di Pogba è stato un po' così e oggi cercheremo di ragionare un po' sui due grandi nomi acquistati dalla Juventus in questa sessione di calcio mercato, anzi nell'ultima sessione di calcio mercato, quella estiva, due nomi che deve andare qualità e esperienza a una rosa che in questo momento fa bene anche senza questi giocatori, l'altro ovviamente di Maria e arriviamo a parlarne. Intanto abbiamo una notizia e cioè che la Juventus avrà almeno un campione del mondo in rosa appena finirà la partita, la finale di Coppa del Mondo in programma domenica perché Rabiot sfiderà Paredes e Di Maria, quindi la Juventus almeno uno ce l'avrà da qui a giugno. Attenzione perché Paredes, Di Maria e Rabiot, sebbene siano lì a giocarsi nella finale di Coppa del Mondo, sono tre giocatori molto probabilmente in uscita lato Juve perché due sono in scadenza, Di Maria e Rabiot. L'altro è in prestito Paredes con una cifra di riscatto abbastanza alta e con un giocatore che fino a questo momento non ha ben impressionato, quindi molto probabilmente la Juventus avrà a disposizione questi giocatori fino a giugno e poi il campione del mondo uscirà un attimino dalla rosa della Juventus. Però vediamo perché magari ci saranno dei rinnovi a sorpresa, non credo, un riscatto a sorpresa anche qua, non credo, però vediamo che cosa potrà accadere. Oltre a Chiesa che ha un affaticamento muscolare dovuto appunto all'essersi fermato per quasi un anno, anzi diciamo così dieci mesi abbondanti per l'infortunio al ginocchio, ci sta una ricaduta, non è un infortunio muscolare, è un affaticamento, quindi non ci sarà a Londra. Vlaovic prosegue con le terapie, a breve e presto dovranno tornare anche McKennie e Kostic dai mondiali, aspettiamo gli altri eliminati, aspettiamo gli altri che giocheranno la finale, però nel frattempo si è fatto male anche Bonucci. Le sue condizioni verranno valutate tra una decina di giorni e anche qui il rischio di averlo fuori per una ventina diventa concreto. Quindi ragazzi siamo a pesti, siamo una squadra che cade a pesti e c'è poco da fare, dobbiamo un attimino adeguarci e stringere i denti per arrivare alla fine dell'anno e poi iniziare a fare delle riflessioni serie. Perché in questo momento qua la Juventus deve interrogarsi su alcuni errori lato campo, che ha condotto nelle varie fasi di calcio mercato. Intanto c'è un'altra notizia, lato Superlega, e cioè, leggo un attimo il trafiletto, Superlega, parere corte, monopolio UEFA non viola norme UE. Sapete bene che oggi c'era appunto questa decisione da prendere e appunto il monopolio della UEFA non viola nessun tipo di regola, era un po' il cavallo di battaglia sul quale poggiava la Superlega. Io credo che l'idea della Superlega non sia da scartare a priori per quanto... aspetta, passo indietro. Da tifoso adoro l'idea di giocare un sacco di partite di alto livello. Quindi avere una competizione con le migliori squadre in assoluto è una cosa che mi gasa da tifoso. Il fatto che ci sia appunto una barriera di ingresso legata soltanto alla storia va a distruggere un po' quello che è lo spirito della competizione sportiva, va a distruggere la meritocrazia e quindi questa roba è da rivedere. Però credo che il principio di avere una competizione extra, oltre alla Champions, in modo proprio da avere le migliori squadre sia molto molto bello. Poi bisogna valutare diversamente il criterio di scelta di chi entra all'interno della competizione. E soprattutto credo che in questo momento sia necessario anche fare un passo avanti nel mondo del calcio, dato che così com'è il mondo del calcio, lo stiamo vedendo, fa fatica a sopravvivere. Sta facendo molto fatica il mondo del calcio. Lasciamo stare il discorso Juve che è accaduto, ma ripeto, si sta parlando di un condono per il 22 dicembre per gli stipendi in Serie A, perché le squadre di Serie A fanno veramente fatica in questo momento, pagare gli stipendi, stiamo parlando solo della Serie A. Quindi che il mondo del calcio debba prendere una posizione differente da quella che c'è già oggi, credo che sia un dato di fatto. Può essere la Superlega? Sì, no, boh, forse. Qualcosa va cambiato, come ripeto, i criteri di ingresso per la Superlega vanno un po' a scontrarsi con quella che è la filosofia calcistica. Quindi io non sono positivo, non sono a favore, non sono contro la Superlega così com'è. L'idea è molto buona, secondo me, va adattata, ma che serva qualcosa di diverso al mondo del calcio, beh, questo credo che sia abbastanza un dato di fatto. Poi, non so, questa è la mia opinione, voglio sapere anche un po' la vostra. Allora, io l'altro giorno vi dicevo che, anzi l'altro giorno, ormai qualche mese fa, vi parlavo di un'Argentina in finale dei mondiali. Ma non perché sia stato particolarmente bravo, anzi la mia previsione della finale era Francia-Brasile, una volta arrivati agli ottavi. Ma quando si parlava di Di Maria, avevo questa paura, appunto, di vedere l'Argentina in finale dei mondiali. Perché, traduco, Di Maria è un giocatore che avrà gli ultimi sei mesi di contratto con la Juventus, dopo averne fatti sei, quindi ha un anno di contratto e basta, una sola stagione. Praticamente a fine carriera, un giocatore con un'età media molto alta, arrivato a parametro zero, in una squadra europea proprio per prepararsi al mondiale, poi sapeva, che sapevamo tutti, voleva andarsene in Argentina, tornare a casa e concludergli la carriera in serenità e in tranquillità. Ok, perché avevo paura della finale mondiale? Perché, con questi presupposti, immaginarmi un Di Maria che vince la finale mondiale, viene da dire, giocatore, che per forza di cose stacca la spina. La stacca. Dice, ho vinto il mondiale. Ha 35, quanti ne ha? 36, non mi ricordo neanche più. Ho vinto il mondiale. Ho raggiunto il mio obiettivo, a fine carriera vincere il mondiale. Cosa può esserci di più? Stop. Perde il mondiale. Ho perso la finale mondiale. Sono in grado di riprendermi da questa delusione? L'ultima grande delusione della carriera? Quindi questa era la mia grande paura legata di Maria, e la confermo tuttora perché non ho idea di cosa succederà domenica nella finale di Coppa del Mondo, Francia-Argentina, tra l'altro finale secondo me bellissima perché mette in contrapposizione i due giocatori migliori di questo mondiale, cioè Messi e Mbappé. Io volevo Messi contro Ronaldo. Mi accontenterò, tra virgolette, del duo Messi-Mbappé, nemici e amici che si sfidano da compagni del PSG a rivali di Nazionale in Coppa del Mondo, però su Di Maria ho paura perché come la guardo la posso guardare in un modo, la posso guardare nell'altra. per me Di Maria rischia veramente di dire ho finito, ho finito. Ci sono delle voci che lo vogliano lontano a gennaio, ora anche l'altro giorno Di Maria le aveva etichettate come fake news, aveva detto no, rimarremo sicuramente, anzi la moglie di Di Maria, aveva detto no, rimarremo sicuramente. Devo dirvi la verità, in questo momento non mi sorprenderebbe invece, non mi sorprenderebbe un addio a gennaio di Di Maria, per andare magari su altri profili, perché? Perché in questo momento Di Maria non è titolare della Juventus, cioè noi ci siamo immaginati tutta estate di poter giocare con quel tridente Vlaovic chiesa di Maria e probabilmente non vedremo mai, non perché Di Maria andrà necessariamente via gennaio, no no, assolutamente no, ma perché io Di Maria oggi non lo considero un titolare della Juventus, così come non lo considero un titolare dell'Argentina perché Messi, Cunha e Alvarez, direi che, è l'attacco predefinito, è l'attacco che funziona meglio, Di Maria è un giocatore già ormai abbastanza accantonato, possiamo dire così, in questi livelli qui, aveva iniziato il mondiale a titolare, poi l'Argentina ha cambiato faccia, ha cambiato volto dopo la sconfitta con l'Arabia Saudita, Di Maria è scivolato in panchina, Di Maria ormai è un giocatore che negli ultimi minuti ti aggiunge qualità, un po' come lo sta utilizzando Allegri, nell'Argentina questo è Di Maria oggi, quindi vediamo, perché Di Maria oggi non lo vedo titolare, poi facciamo un passo avanti, la Juventus è cambiato modulo, siamo andati al 3-5-2, non al 4-3-3 come abbiamo ipotizzato tutt'estate, quindi il tridente per forza di cose non lo vedremo, magari vedremo Di Maria Evlaovic e chiesa sull'esterno, può essere un'opzione? Sì, può essere un'opzione, però Di Maria oggi ha fatto un passo indietro nelle gerarchie, nella scala dei titolari, è un dato di fatto, un giocatore che negli ultimi minuti è il cambio d'oro che va a creare quella confusione e quella paura anche nella testa degli avversari, perché tu hai lottato tutta la partita con Blaovic e Ken, e adesso devi prendere le misure di Maria che fa un gioco totalmente diverso e aggiunge qualità, e ha anche una chiave di passaggio differente, delle letture differenti, quindi questo è Di Maria oggi, ma non è un titolare, non è un titolare, e pensare che alla finale del mondiale gli capita addosso in questo modo e sia che la vinca sia che la perda possano esserci ripercussioni, io devo dire la verità, io ero assolutamente a favore dell'acquisto di Di Maria perché ero innamorato di Di Maria, poi durante il tiramolla estivo mi ero abbastanza seccato, stancato, avevo detto ragazzi a un certo punto cerchiamo di andare su un altro profilo, poi sono comunque stato contento dell'acquisto di Di Maria, ma ad oggi sono abbastanza deluso perché se penso in generale all'esperienza di Di Maria in bianco o nero, io penso all'ottimo esordio col Sassuolo dove mi ha fatto innamorare, primo gol stagionale suo, l'assist a Blaovic nel 3-0 è suo, e la tripleta di assist contro il Maccabi che io ho visto dal vivo allo stadio, è stata una partita clamorosa, quella me la porterò sempre nel cuore perché io, ripeto calcisticamente, sono innamorato di Di Maria, quei giocatori lì mi fanno impazzire, i Messi, Di Maria, i Di Bala, quei giocatori lì, quindi io sono contento, se Messi porta a casa il mondiale, sono molto contento perché ci sono tanti giocatori che mi piacciono nell'Argentina, in realtà Mbappé, io in questo momento lo considero il migliore giocatore al mondo, e per quanto la Francia non mi stia simpatica sarei contentissimo di Mbappé che vince due mondiali di fila, perché credo che questo sia veramente il futuro del calcio mondiale, in assoluto il più forte oggi, poi vediamo, perché comunque Messi in questo mondiale è decisamente un fire, quindi bene o male la finale di Coppa del Mondo come finirà va bene, sarei contento anche per Deschamps, devo dire la verità, che ci ha riportato in Serie A dopo l'inferno della Serie B, tra l'altro su Deschamps non ricordavo la parentesi al Monaco dove ha fatto una finale di Champions League, mi pare persa contro il Porto di Mourinho, ora vado a memoria, quella roba lì non me la ricordavo, e anche per rabbia ovviamente perché comunque è un giocatore della Juve, però ribadisco, la Francia non mi sta simpatica, ma ci sono dei punti a favore anche della Francia in questa finale di Coppa del Mondo, ma la mia preferenza pende decisamente lato Argentina. Però su di Maria questo è il discorso, su di Maria questo è il discorso, oggi è un giocatore non titolare nella Juve, oggi è un giocatore che non ha impattato nella Juve, oggi è un giocatore che non è più nemmeno titolare nell'Argentina, oggi è un giocatore nel quale probabilmente la Juve potrebbe fare a meno, assolutamente sì, così come Pogba che fino a questo punto non l'hai mai visto, quindi la campagna acquisti di quest'estate, non dico incentrata e focalizzata su questi calciatori, ma con anche questi calciatori nel mirino, è rivedibile dopo sei mesi, sicuramente rivedibile. Poi è ovvio che hai preso due calciatori a parametro zero, e quindi dici vabbè, ok, li ho sbagliati, sono due parametri zero con decreto crescita, uno annuale, quindi data male, ma non è che questo è il danno alla Juventus. Il problema qual è? Che questa roba ti toglie, tra virgolette, uno slot, no? Perché io mi immagino anche oggi la Juventus che vuole andare sul mercato per cedere un giocatore, io l'ho già detto tante volte, secondo me la Juventus dovrebbe cedere uno a centrocampo, McKennie, perché in questo momento serve un giocatore sull'esterno destro, come vice quadrado, addirittura come titolare, perché se giochi 3-5-2 non te le può fare tutte quadrado, che in questo momento anche lui ha dei problemini fisici, e a centrocampo lo sacrificabile è McKennie, però con lo slot di Pogba, con questo punto interrogativo qui, c'è, non c'è, torna, non torna, fa anche un po' fatica a prendere delle decisioni a cuore leggero. Davanti non credo che la Juventus abbia bisogno di inserire un giocatore, anzi, delle due c'è addirittura Chiesa che potrebbe fare quella posizione lì, anzi, sto leggendo che Juventus valuterà nelle ultime ore di mercato se cedere in prestito sull'E, che in questo momento è abbastanza chiuso, perché proprio lì davanti c'è abbondanza di giocatori, e passando al 3-5-2, o metti dentro, o alcuni giocatori sono panchinari, tra virgolette, e sono dei giocatori da subentro, dove si modifica anche il modulo, se un centrocampista si inserisce una punta in più, che può essere un'opzione, oppure lì davanti siano troppi, il centrocampo siano troppi, però siano troppi, ma non possiamo fare una cessione, perché ci sono dei punti interrogativi, anche il Rabio stesso, il Rabio stesso ragazzi, se arriva un'offerta a gennaio è da cedere, un giocatore a parametro 0, che può già firmare con chi gli pare, lo perdi a 0, ti arriva un'offerta da 10-15 milioni, non esagero, perché questa, anzi, secondo me 10-15, per un giocatore che può arrivare gratis è già tantissimo, lo devi dar via, però lo puoi dar via? Lo puoi dar via? Eh no, perché sul campo è un titolare, sul campo ha dimostrato di essere uno dei giocatori più validi, lo perdi, vabbè dai ti torna Pogba, no ma Pogba non ti torna, cioè, o almeno non lo sai, non stai capendo, quindi tutti questi problemi fisici lato Juve, che sicuramente nascono da degli errori di valutazione, non solo in chiave a mercato, ma anche dello staff tecnico, perché probabilmente lo staff tecnico in questo momento, degli errorini durante la preparazione, durante la gestione, recupero di alcuni infortuni, o momenti particolari, una tattica, una tabella personalizzata per questi atleti, qualcosa si è sbagliato, però vedete che sono, va bene, sono piccole cose, possiamo chiamarle piccole, però non sono piccole, perché stiamo parlando del lato sportivo di una squadra, di una squadra importante come la Juve, quindi anche ragionare sul futuro, prima dicevamo, va bene, meno un campione del mondo, però probabilmente escan tutti, qualcuno oggi sarebbe triste di riuscita a ripare ad essere di Maria, io credo di no, poi magari, da qui a giugno fanno il campionato della Madonna, ribaltano la Juve come un calzino, diventano super titolari, può essere, può essere assolutamente sì, può essere, così come magari Pogba appena torna, torna il Pogba degli anni d'oro, difficilmente sarà così, può essere, quindi ragioniamo soltanto per ipotesi, però ad oggi, Paredes di Maria, va un via gennaio, io non è che sia triste, faccio fatica a dirvi sono triste, Pogba ha un contratto lungo, quindi faccio un po' fatica oggi a dire, vabbè, battezziamolo come operazione fallimentare, spero che a un certo punto Pogba possa riprendere l'attività agonistica, a meno che non sia completamente finito, e questo è un altro paio di maniche, questo poi è un discorso completamente diverso, però anche qui non venitemi a dire che Pogba ha un menisco, cioè non venitemi a dire che Pogba è fuori da luglio per un menisco, io non posso credere che Pogba sia fuori da luglio per un menisco, e che forse rientri a febbraio, perché a metà dicembre hanno ancora iniziato a correre, ma un menisco? Ma no, cioè c'è qualcos'altro, su Pogba sono abbastanza convinto che ci sia qualcos'altro dietro, quindi sono chiacchiere, sono ragionamenti, sono cose che vi butto qui, spunti di riflessione, chiamateli come volete, però secondo me ci sono tante cose sulle quali ragionare lato Juve, fatemi sapere un po' cosa ne pensate.